Una stagione che ritengo importante per la città di Terni è una stagione con moltissimi spettacoli che hanno una presenza solamente a Terni, per cui sono le date uniche in Umbria per questi spettacoli. C'è anche un importante spettacolo straniero di una delle compagnie inglesi che si sta fermando nel mondo e anche in questo caso c'è una parentela in qualche modo con la ricorrenza della Prima Guerra Mondiale perché lo spettacolo trae origini da Dio alle armi di Hemingway. È un esperimento che facciamo ma la città di Terni sicuramente è una città che saprà apprezzare uno spettacolo anche se in lingua originale naturalmente con sottotitoli in italiano e di un romanzo che tutti conoscono peraltro per cui mi pare che sia una stagione all'altezza delle ambizioni di una città come Terni che sul teatro spende una parte importante della propria identità.